Aveva chiuso oltre un anno fa tra l'amarezza e il dispiacere dei clienti fedeli. Adesso, nel futuro del caffè De Costanti ad Arezzo, potrebbe esserci Patrizio Bertelli. Il patron del gruppo Parada, ex amministratore delegato, sarebbe infatti intenzionato ad acquistare la storica attività davanti alla Basilica di San Francesco. Bertelli avrebbe presentato una manifestazione di interesse per l'acquisto del caffè, a mettere all'asta lo storico esercizio al prezzo di 1.400.000 euro banca intesa proprietaria dell'immobile che lo ha ereditato da Banca Etruria. Il bando per l'acquisto del locale dovrebbe essere ufficializzato a giorni. Il patron di Prada, sempre nella stessa piazza, ha già acquistato anche la buca di San Francesco, storico ristorante celebre per aver ospitato personalità del mondo della cultura e del cinema, ma anche re e presidenti. Lo storico caffè De Costanti si trova in piazza San Francesco, proprio di fronte agli affreschi della leggenda della vera croce di Piero della Francesca. È famoso anche per alcune scene del film premio Oscar La vite bella di Roberto Benigni. Le immagini del caffè vietato agli ebrei e ai cani sono state girate, infatti, proprio lì.